Radio W0, Radio W0, suona ciò che ami, più suona e più l'ami. Questo libro si chiama L'allodola e il fuoco, è un libro strano, come sono un po' tutti strani i libri di poesia, che la poesia appunto è questa voce un po' come l'allodola, come la chiamavano gli antichi poeti, cioè una voce tra la notte e l'alba, tra l'oscurità e la luce, che si sente ma non si sa bene da dove viene. Ed è anche il fuoco, perché la poesia serve per mettere a fuoco la vita, cioè per conoscerla, anche un po' accenderla, per guardarla meglio. E quindi l'ho chiamato così, questo viaggio nella poesia di tanti poeti diversi, di tante poesie che mi hanno acceso la vita. L'editore è così matto di averlo fatto, adesso è qua, chi vuole solo legge. Una radio che si chiama W0 è una radio esagerata, cioè non basta uno zero, ne ha addirittura due. Quindi auguro tu di essere veramente esagerati, non solo perché, come dice Vasco Rossi, bisogna volere una vita esagerata, ma perché la vera esagerazione della vita è la gratuità. Ciao!